Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi voglio parlare della nuova rivista della FIAV che mi è arrivata pochi giorni fa e questa volta parla delle gallina siciliana però all'interno di questo libricino, questa rivista meglio dire c'è un articolo a cui tengo molto e poi di cui dopo vi parlerò comunque vi volevo prima fare un punto sulla FIAV e sulla rivista ma penso che da un'altra parte di voi lo sapranno però ne vorrei parlare per i nuovi che sono in questo nuovo ambito la FIAV sarebbe la federazione italiana che si dedica all'avicoltura quindi la nostra passione degli avicoli e quindi permette anche tutte le mostre permette anche di migliorare la selezione negli allevamenti essendo che poi fornisce uno standard per ogni razza e diciamo anche crea e ammette le nuove razze o razze recuperate all'interno del suo albo e permette la selezione e anche la riscoperta delle razze autottone italiane o delle nuove razze colorazioni create dagli allevatori e poi la FIAV ogni 3-4 mesi quindi di solito sono 4 riviste annuali manda delle riviste agli abbonati dove in ogni rivista si parla di una nuova razza poi c'è un aspetto dove ci sono le immagini si parla della salute degli animali ogni volta consigliando dei prodotti che si possono utilizzare per migliorare l'allevamento ci sono i prodotti anche per quanto riguarda mangiatoi e abbeveratoi per l'allevamento e poi ci sono anche diversi articoli anche delle esperienze degli allevatori sia sulla razza di cui si parla quella volta o anche in generale dell'allevamento in questa rivista che è principalmente dedicata alla gallina siciliana si parlerà però anche delle quaglie cinesi perché la FIAV da pochi mesi ha accettato come selezione le quaglie jumbo e cinesi e quindi si inizia a parlare questo è il secondo articolo riguardante le quaglie cinesi per informare tutti gli allevatori e anche chi ancora non intraprende l'allevamento a come allevarli andiamo al punto che credo sia anche quello per me più emozionante e quello che anche voi siete curiosi di sapere adesso vi mostro il tutto poi vi parlo meglio anche della rivista ecco quello di cui vi parlavo dall'inizio all'interno della rivista questo mese in questa rivista c'è un mio articolo dove principalmente ho riscontrato ho parlato anche un minimo dell'allevamento della mia esperienza dell'allevamento delle quaglie essendo che come saprete allevo quaglie già da un po' e le ho mostrate qui sul canale ma prima di riprendere l'allevamento già le allevavo molto tempo prima e chi leggerà l'articolo che avrà questa possibilità di leggere l'articolo sarà molto... saprà anche da quanto tempo già allevo le quaglie altra cosa molto importante all'interno dell'articolo c'è uno spoiler per chi lo avrà prima poi se no uscirà comunque un video dove vi parlo della nuova razza che ci sarà dentro la nuova struttura e quindi dico la nuova razza però poi uscirà più avanti anche un video dove vi mostro i soggetti di questa nuova razza e una cosa che vi volevo dire per iscriversi alla Federazione Italiana dell'Avicoltura basta pagare una quota annuale poi che varia in base ai minori e agli adulti e ci dà accesso anche comunque ad avere gli anelli per la registrazione dei propri animali e quindi poi ci dà anche la possibilità se uno è iscritto ad avere l'accesso alle mostre per ogni... poi all'interno della FIAV ci sono tante associazioni in base alla propria regione e al proprio luogo dove si abita quindi le potete trovare tranquillamente online sul sito della FIAV e per chi sarà già chi è abbonato o chi si abbonerà per leggere questa rivista può comunque una volta essere che si è abbonato recuperarla sul sito una volta messe le credenziali sul sito della FIAV perché una volta che uno si abbona non può ricevere gli articoli diciamo le riviste di prima del suo abbonamento cartaceo però li può trovare online mettendo le credenziali nel sito comunque spero che l'articolo vi piacerà e spero che molti di voi avranno la fortuna di poterlo leggere in modo tale che possano anche sapere un minimo la mia esperienza c'è anche un messaggio per tutti i nuovi allevatori e per voi che mi seguite qui sul canale e adesso vi vorrei un minimo mostrare tutto diciamo la rivista un minimo velocemente per farvi capire un po' come è scritta poi chi avrà la fortuna di leggerla potrà leggere comunque inizialmente ci sono sempre immagini e poi gli articoli dedicati alla razza in questione per l'articolo poi potete trovare tanti articoli degli esperti che si sono dedicati alla selezione di questa razza poi trovate anche le aziende che hanno contribuito a questo articolo come vi dicevo l'allevamento il secondo episodio è l'allevamento delle quali cinesi quindi in questo articolo si consiglia anche modalità delle voliere che si possono utilizzare strutture per loro e forse di questo ve ne parlerò anche in futuro perché forse intraprenderò l'allevamento poi come vi dicevo c'è anche una pagina dedicata alla salute degli animali quindi i prodotti che si possono utilizzare per questo in questa rivista c'è anche la parte dedicata alle barbute quindi parlano in questa rivista di due razze differenti infatti c'è anche l'immagine alla fine e poi vi volevo mostrare un esempio di azienda consigliata ad esempio per i prodotti che vi consiglio anch'io e testo questi prodotti abitudinalmente quindi la River intendevo infatti per chi vuole sempre la rivista è prevista anche per dare consigli ai neofiti perché chi si iscrive poco dopo con la prima rivista può avere subito delle informazioni per sapere meglio sulle razze che si possono allevare informarsi sulle caratteristiche degli animali e nella rivista si consiglia anche i prodotti che si possono utilizzare per l'allevamento per avere sempre animali in salute che stiano bene anche per facilitare l'allevamento quindi con i prodotti per utilizzare cibo, acqua e tutte queste cose qui poi ci sono anche tutti altri articoli immagini che spiegano le piume il piumaggio, i geni degli animali che si possono tranquillamente poi leggere per chi avrà la rivista spero che questo video vi sia piaciuto e non è uno di quei video più di tanto lunghi o dove spiego come procede l'allevamento ma comunque anche questo secondo me era un importante punto per l'allevamento essendo che molti di voi non sanno proprio tutta la mia storia e allora con quest'articolo chi lo leggerà avrà la fortuna di capire da dove arrivo e quindi anche ognuno può capire che si parte sempre da zero e poi si cerca di selezionare e fare il tutto nel meglio possibile ringrazio tantissimo la FIAV che mi ha dato la possibilità di iscrivere questo articolo e poi ragazzi vi lascio qui sotto i link sia della federazione italiana sia dell'associazione a cui sono iscritto io per una delle regioni dove mi sono voluto iscrivere dove mi trovo molto bene se vi è vicino quella associazione lì se decidete di iscrivervi a una delle associazioni può servirvi come informazioni da me le galline ornamentali e il nuovo articolo è tutto grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video